Ben ritrovati amici di Parlando di Sport, siamo collegati dalla sala stampa dello stadio Alberto Braglia di Modena per questa intervista sul settore giovanile giallo-blu qua al mio fianco e do il benvenuto al responsabile del settore giovanile Vittorio Cattani. Buonasera, benvenuto, iniziamo questa nostra intervista dall'attualità ovvero dalla prima squadra che giovedì scorso ha vinto in casa contro la Drense e grazie alla sconfitta della pergolettese sul campo della Calvina è riuscito a riaprire questo campionato che sembrava ormai perso tra i punti che distanziano le due squadre alla vigilia di uno scontro diretto fondamentale. Direi fondamentale sì, è chiaro che fino a qualche settimana fa non si sperava ma non si pensava di poter arrivare a questo scontro con una valenza così importante, è chiaro che abbiamo solo un risultato e vincere non è mai facile soprattutto contro un avversario che bisogna rendergli anche merito, cioè ad esempio in casa se non erro hanno vinto 14 partite, perso una partita e pareggiata una, quindi vuol dire che c'è anche una grande qualità e quindi ci siamo scontrati con un avversario veramente forte, quindi è vero che noi come società Modena avevamo delle aspettative diverse, cioè a quest'ora magari si pensava a luglio per molti tifosi che il campionato fosse già vinto, invece purtroppo bisogna rendere come dicevo prima onore e merito anche a questa squadra che veramente ha fatto un campionato incredibile, quindi essere comunque in grado di poterci giocare ancora le nostre chance di promozione sul campo è già una grandissima soddisfazione, visto come eravamo, ripeto, messi qualche settimana fa. È chiaro che abbiamo un solo risultato, io andrei a crema, visto che si giocherà lì, per fare gol subito e poi perché ho visto che loro nei primi minuti soffrono parecchio e di conseguenza già partire con il piede giusto, secondo me dopo potremo gestire meglio la partita anche per le nostre caratteristiche che di rimessa possiamo fare molto male. Prima a parlare giustamente dei tifosi, anche a crema saranno in tantissimi, sono stati concessi solamente 1.350 biglietti, però insomma il Modena a crema sarà visto da tantissima gente in tv, allo stadio Voltini o comunque in ogni luogo possibile e immaginabile. Questo è il vero crucio perché noi abbiamo dei tifosi che sono veramente eccezionali. A Modena poi sai, basta poco, nel momento in cui le cose non vanno bene ci facciamo salire dallo sconforte e sembra che tutto sia negativo. Basta che ci sia una scintilla, un motivo per, si crea un ottimismo che è contagioso. Io veramente sono dispiaciuto perché tantissima gente meriterebbe di vedere questa partita in diretta dallo stadio addirittura. Purtroppo non è possibile, ma sono sicuro che i giocatori saranno accompagnati da un tifo incredibile, come diceva Gianlauro Morselli nell'intervista di ieri, mi sembra, che ci faremo sentire anche se saremo in inferiorità numerica perché questo l'hanno dimostrato su tutti i campi. Ancora negli occhi la coreografia della curva a Reggio Emilia, allo stadio Manpei, poche settimane fa contro la Reggio Audace, è veramente uno spettacolo. Ripeto, mi dispiace per chi non la potrà vedere, ma sicuramente chi non la potrà vedere dal vero la vedrà attraverso la televisione. Passando al settore giovanile, qual è il bilancio nell'anno che ha portato alla rinascita del calcio in città? Io pur essendo ottimista per natura, sono anche sempre abbastanza critico con me stesso. Devo dire che quando si è partiti avevamo veramente un lavoro enorme da fare, abbiamo dovuto fare delle scelte, a volte sono state, cioè in alcuni casi sono state azzeccate, in altri casi un pochettino meno, però devo dire che l'impegno è stato massimo da parte di tutti, da chi era come staff tecnici, a chi dietro le scrivanie, a partire dal segretario, per arrivare a Rossi, Pinetti, che sono i miei collaboratori più stretti sotto l'aspetto tecnico, scouting, per arrivare a tutti gli staff di tutte le squadre. Si è cercato di lavorare al meglio e devo in questo caso ringraziare la società perché ci ha messo a disposizione i mezzi per poterci allenare su dei campi importanti, cioè di allenamento, insomma su dei campi sintetico, per cui è stato con la palestra, c'è Salicetta, è veramente un centro che pochi in Italia ci sono. Io ho invitato alcuni altri che non lo conoscevano, colleghi miei di società anche professionistiche, e tutti sono rimasti veramente impressionati da questo. Grazie quindi alla società per averci messo in condizioni di operare al meglio. Poi, ripeto, le squadre in questi mesi sono cresciute, abbiamo migliorato in tante cose, però ripeto, spirito critico, so di aver sbagliato determinate situazioni, determinate cose, e sto già correndo ai ripari. Per quanto riguarda i ragazzi, torno al punto di partenza, alla prima domanda, cioè io sono in mano alla prima squadra, se la prima squadra mi farà questo grande regalo di salire tra i professionisti, è chiaro che tutto il nostro movimento, sia attività di base che agonistico, riceverà un impulso incredibile. Nel caso contrario, potrebbe essere un problema molto grosso portare avanti un discorso che è appena ripartito, che sta proseguendo, ripeto, abbastanza bene, in certi casi molto bene, però poi potrebbe subire un contraccolpo qualora dovesse rimanere ancora in questo campionato. Parlavi dell'attività di base, ovvero della scuola calcio, gestita da Fabio Dallomo, che ne è il responsabile, qual è il rapporto con Fabio, con tutti i vari collaboratori, insomma Paolo Ricchi, Marco Nicoletti, lo stesso Roby Malverti, insomma tanta gente che ha a cuore i colori giallo-blu. Sì, sì, è un rapporto perfetto, noi si collabora a 360 gradi, anzi io devo ringraziare loro che mi hanno dato veramente, non una mano, cento mani all'inizio per mettermi in condizione di non partire da zero e quindi è stato un grandissimo aiuto che va avanti, si è consolidato nel tempo. Ripeto, anche loro avranno delle cose da migliorare, ma sotto questo aspetto anche qui credo di poter dire che con Fabio Dallomo, Giovanna Ardi e tutti gli staff tecnici anche del settore giovane, delle attività di base stanno facendo un lavoro molto importante. Puoi vedere tutti questi ragazzi con tutte queste divise giallo-blu, così è uno spettacolo, anche nei vari campi di provincia, contro i campionati, anche loro fanno dei campionati con delle squadre professionistiche e sempre escono a testa alta, quindi vuol dire che siamo, anche come attività di base, siamo partiti bene. Una menzione particolare per la Juniores di Robby Malverti, che spesso si allena con la prima squadra, ha concluso venerdì il proprio campionato con una sconfitta a Santa Arcargelo, K.O. che però non ha cancellato un campionato straordinario, ora ci sono le fasi finali per proseguire al meglio, veramente una stagione incredibile. No, la Juniores ci ha dato veramente una grossa soddisfazione, perché comunque avevamo come competitor tutte squadre che fanno il campionato di Serie D, tra le quali anche squadre che non sono nel nostro girone, ma tipo il Cesena, Forlì, Sant'Arcangelo, vi garantisco che sono veramente delle squadre molto, molto, molto forti. Abbiamo vinto, siamo stati in testa dalla prima giornata all'ultima, devo dire che l'ultima sconfitta, non solo a me, ma anche a Roberto Malverti, ha dato un po' fastidio, ma non tanto per il risultato, tanto ero in cassaforte, avevamo otto punti di vantaggio, una partita dalla fine, e che perdere non è mai bello, io sono convinto che vincere aiuti a vincere, per cui bisogna sempre andare in campo per dare il meglio, essere appagati quando ancora comunque dobbiamo affrontare i gironi finali, a livello appunto nazionale, quindi incontrando squadre tutte molto forti, è sempre bene stare sul pezzo, anche in partite che conta pochi risultati. Oltre alla Juniors, naturalmente, ci sono tante altre squadre, per loro come sta andando questa stagione della rinascita? Guarda, i 2002 sono stati obbligati a fare, obbligati nel senso che con la nuova matricola automaticamente dobbiamo disputare un campionato provinciale, poi facciamo un campionato fuori classifica adesso, facciamo un campionato con le squadre che stanno facendo il campionato regionale, chiaramente direttanti, ti posso dire che a livello provinciale abbiamo vinto tutte le partite, a livello 2002, il campionato primaverile, fuori classifica sì, però ce l'hanno dato degli obiettivi, che ad esempio era quello di non subire gol, abbiamo finito il campionato senza subire gol, quindi anche questo è stato, però ripeto, le soddisfazioni migliori ci stanno arrivando adesso, confrontandoci con realtà, sempre direttantistiche, ma all'avanguardia, come settori giovanili, tra province di Modena, Reggio, Bologna, Parma, Ferrara, penso che abbiamo fatto un pareggio, abbiamo vinto tutte le partite anche contro di loro, le stesse cose purtroppo per il 2004, che hanno dovuto fare lo stesso tipo di campionato del 2002, provinciale e fuori classifica, questo campionato regionale, regionale contro squadre più o meno come sta affrontando il 2002. Devo dire che il 2002 abbiamo una rossa abbastanza ampia, direi di qualità, lo ha dimostrato anche le partite, lo dimostra anche quando incontriamo delle squadre professionistiche, come ultimamente anche il Sassuolo, dove pur sconfitto usciamo a testa alta, perché ripeto abbiamo qualità, abbiamo già diversi giocatori che sono molto apprezzati anche da Robby Malverti, per quanto riguarda il 2004 la stessa cosa, abbiamo vinto il torneo Sassi l'altro giorno, è stata una grossa soddisfazione per i ragazzi, per lo staff, per i genitori, insomma Maranello era piena, la tribuna era piena e a tifare per questi nostri colori, è stato a un certo punto anche emozionante per me. Per quanto riguarda il 2005, stanno facendo un campionato con professionisti della regione, ci confrontiamo con società blasonatissime, che fanno una selezione agguerrita, Bologna, Sassuolo, Spal, Parma, e quindi insomma tutte società importanti, ci stiamo ben comportando per essere il primo anno, essendo ripartiti, ripeto, anche con loro, praticamente da zero, conservando qualche ragazzo che era dell'Accademia, andando a pescare in provincia, con tutte le società, qui devo spendere due parole, anche nei confronti di tutte le società di Modena e non solo, che ci hanno dato veramente una grossa mano, ci hanno aiutato collaborando in ogni modo, quindi io ringrazio tutti i presidenti, tutti i direttori sportivi delle società, direttantistiche della nostra provincia, delle province limitrofe, perché veramente ci hanno messo a disposizione tanti ragazzi, veramente con uno spirito collaborativo eccellente. Ultima cosa, se mi permetti, volevo dire che la dimostrazione del lavoro discreto che è stato fatto, ripeto, sempre considerando al netto di errori che ne commetto, che ne abbiamo commessi, che spero di non ripetere, volevo dire che noi abbiamo diversi ragazzi che sono con le varie rappresentative, cioè mi sento di dire a Biuson 2003 che nella rappresentativa nazionale 2003, cioè nazionale, quindi di tutte le squadre che stanno facendo il campionato di serie D a livello nazionale, lui è nei 22-24 giocatori che rappresentano questa rappresentativa, appunto, e Modena, quindi è presente anche in questa. Abbiamo tantissimi ragazzi, Enricchiello e Tosi 2002, rappresentativa regionale, Enricchiello addirittura nella rappresa, eppure essendo un 2002, come Sanat della Reggiana, è nell'occhio del selezionatore della Juniores 2001 nazionale, e quindi insieme a lui c'è Boschetti, c'è... c'è... perdonami, eh... Boschetti... sai, sono tanti che... mi sto confondendo Barbieri Matteo, Bianculli il portiere, Boiardi l'attaccante, Dufour, poi abbiamo Mordini, Ferrari, Mele da rappresentativa con i 2003, Tonziello rappresentativa regionale 2004, Crispino, Prampolini, Spaggiari, che sono con la rappresentativa 2005. Non ho parlato dei 2003, perché siamo nelle finali regionali, ma soprattutto li ho menzionati per ultimo, non perché rispetto agli altri valgono meno, ma semplicemente perché volevo ricordare purtroppo Emanuele della Casa, che in occasione del torneozzini di Rubiera, sabato scorso, si è rotto Tibi e Perone. È stato operato oggi, l'operazione è andata bene, speriamo di avere Emanuele con noi il più presto possibile, anche se lui stesso sa che i tempi saranno lunghi, ma comunque voglio appunto cogliere l'occasione per dare un grosso in bocca al lupo a lui, come ai 2003, che si appresteranno a fare le finali regionali, con l'ambizione di poter fare il meglio che si può. Anzi, dobbiamo farlo. È necessario. Chiudiamo con una domanda sul futuro, quali sono i vostri obiettivi e in cosa si può ancora crescere, visto che comunque è il primo anno, lo ripetiamo, è l'anno della rinascita, e quindi la strada comunque è ancora molto lunga. Adesso vediamo quello che farà la prima squadra e poi dopo il Presidente ci comunicherà anche quello che saranno l'organigramma e tutto. Detto questo, comunque dipenderà molto da che tipo di campionato andrà a disputare la prima squadra, perché se noi faremo un campionato professionistico, è chiaro che anche noi dovremo alzare un po' il tiro cercando di portare ancora più qualità all'interno delle nostre squadre. Se noi faremo un campionato di nuovo direttantistico, cercheremo intanto se sarà possibile mantenere tutte quelle che sono tra virgolette i migliori giocatori che abbiamo adesso negli organici per poter poi essere pronti e preparati qualora la squadra sicuramente farà il salto di categoria. Volevo dire una cosa e ritorno alla prima domanda. Mi ha fatto un sacco di piacere comunque leggere nelle varie interviste che sia il presidente che Galassini che Gianlauro Morselli che Romano Sghedoni ripeto il nostro presidente Salerno Amadei parlare di continuità qualora dovesse anche questo campionato andare non nel modo voluto però il fatto di poter conservare questa compagine sociale che è formata sicuramente da persone molto serie e anche appassionate io credo che sia un punto di partenza importantissimo perché queste persone credetemi giro l'Italia per il tipo di lavoro che sto facendo adesso per il settore giovanile e sono tutte persone che ci invidiano quindi teniamocene strette facciamo in modo che le cose vadano bene e poi in ultima analisi non voglio neanche pensare che la crema possa andare male non lo diciamo attendiamo domenica il risponso dal campo noi allora siamo in chiusura ringrazio Vittorio Cattani per la disponibilità e per l'intervista grazie a te e a tutti gli ascoltatori grazie all'ufficio stampa del Modena per averci concesso questa intervista vi invitiamo a rimanere collegati sul nostro sito palanodisport.it per tutte le notizie sul Modena sul Carpi sul Sassuolo su tutto il mondo sportivo modenese un saluto da parte di Federico Sabattini e Vittorio Cattani grazie